Quando non ci sono più soldi, secondo te che cosa resta? Preparatela, sentiamo prima Emanuele. Il valore è di essere uomini, di essere autentici e di mettere al servizio degli altri i propri saperi. Grazie. Questo o questo? Andrea. L'essere umano, quello, come dire, c'è sempre e trovo che forse con meno denaro ci sarà sicuramente una nuova esplosione di connessioni vere, di strette di mano vere perché i social e digital sono una figata ma stringersi la mano è un'altra cosa. È detto da un community manager, credo che riprendete la stretta di mano a tutti perché è veramente utilissimo, bellissimo. Lo condividiamo in pieno anche noi. Grazie a tutti.